Continua il banco di prova per Goku Super Saiyan 3 Legends Limited fresco di platino Dopo averlo provato nel movie, riproviamolo nel movie Ma un movie son femme senza Janemba con il rischio che gli rubi la scena Questo è il team, doppia Zenkai Bench per lui E questi sono gli equipaggiamenti Raga, come sempre, vi invito a lasciare un like, a lasciare un commento A iscrivervi se ancora non l'avete fatto Detto ciò, let's go! Team Godkey! Let's go! Ok, gogetta Ah, così! Bruttissimo! Perché ho fatto così schifo? Ansia da prestazione, raga Quando ti trovi controvegito, non sai che fare Allora, tentiamo di bloccarlo un minimo con Pan Ma proprio un minimo Direi missione fallita Fermo, fermo Fermo, fermo Stoppati Sì Ok Spariamola Va bene, Vegito Bastonate in faccia per Vegito Yes, sir! Sciolto Vegito Yes, sir, Kid Q Non era il tuo showcase Rimettiamo Goku Super Saiyan 3 No, è andato È partito È partito Allora, tankaggiamo qualcosa Proviamo a buttare Pan per spegnerlo Ok No, tardi Ed è GG Raga, Kid Q Sorprendente Prossimo Team Regen Più UVB Ottimo Un popo così Di cattiveria estrema Allora, buttiamo un attimo lui Per tankaggiare qualcosa Vediamo se per caso No Non sia mai Che arriva una strike Nell'unico momento Che non è in anti-cover Va bene C'è un Embad Via Oh, let's go Oh, let's go Ed è Sam Per finire Ed è Sam Per finire Janemba Raga, ma quanto è forte Kid Q Quanto stracca e forte Kid Q Nope Bellissima questa Raga, questa me la scrinno tutta la vita Il povero piccolo in discesa Prossimo Team Universe Ok, Jiren Vai Goku Speravo in un'altra carta Speravo in un'altra carta Buildati, buildati Bodybuildati Ok Ok Inspiegabilmente Fermo Andiamo di verde Verde anche per te Ok Stop, stop Ok Ok, Jiren Ok, Jiren Sei partito Certamente Ti direi anche Basta Finalmente posso Premere questa Wow Va bene Va bene Let's go Let's go Facciamolo Facciamolo raga Facciamo questa kill Su Q Ma tu sei Farate Ma 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 Tu stai Ragionando Completamente Ti mangio Prisa Meno due E Meno tre Ha fatto il panico Nel finale GG Prossimo Ultimo match Team movie Blue blue green Ok Va bene Va bene Janemba Ok Vediamo di scaricarlo Un po' Se ce la facciamo Se non ci scioglie Prima lui Cosa che è molto Probabile Pan Non hai funzionato Sfinchia il camp Sfinchia il camp Ok Questa va bene Sì Sì Torna in vita Torna in vita Subito Oh let's go Orange Orange piccolo Sei già qua Eh No È Janemba È Janemba Che l'ha fatto Tornare Povero me Grande bro Grande bro Grande bro Bella giocatina Kidku Toccate Ok Ultimatizziamo Dentro Janemba Bastonati in faccia Che io Oh oh Bene Tu sei carne Da macello E resta la best Kidku Kidku Si è trasformato Nel suo showcase Mamma mia Quanto è forte Sto personaggio Mamma mia Quanto è forte Parliamone Team Sonfam O meglio Accoppiata Goku Super Saiyan 3 Kidku Goku Super Saiyan 3 Platinato Tanta roba raga Come vi dicevo Nel suo showcase Mirato Tanta robetta Ma Kidku qua Ma totalmente È lasciato A bocca spalancata È andato ben oltre Qualsiasi aspettativa Io avevo tolto Janemba Per non rubare Lo showcase A Goku Ma in realtà Nello scorso showcase Dove c'era Janemba Non gli aveva rubato Così tanto la scena Qua invece Kidku Ha cariato Praticamente Il team In tutte le occasioni Più spinose Che si sono presentate Raga Personaggio fenomenale E finalmente Con un verde Del genere A coprirlo Non dai gialli Come sarebbe logico Ma da Janemba Blu Rende ancora meglio Quindi team Team assolutamente Promosso Se avessimo Un support Migliore di Pana A questo punto Sì esiste Goan Nerd Ma pure lui È rosso Quindi bene Ma non benissimo Ci vorrebbe un support Di differente colore E il team Sarebbe esagerato In questo meta Ditemi la vostra Qua sotto Nei commenti Un bacione a tutti A presto